Ok, rinasciamo già qua, vai. Vediamo, ecco, proprio di fianco a un dilo, no? Ma porcaccia, via, via, devo essere... Dai, dai, via! Quanto dura sta animazione, la vorrei eliminare, sta animazione. Ciao Dodino, meno male che ci sei tu, guarda. Che sì, dobbiamo essere mostruosamente prudenti, mostruosamente. Adesso io ho tutto da capo da rifare, vabbè. Olografica, scusate, cos'ha di olografico sta roba? A me sembra un robottino reale presente. Aia, c'è qualcosa che scappa, lui sta scappando da chi? Da che cosa? Sento il tacchino, attenzione, guardalo lì, questo... 250, questo ci devasta istantaneamente, quindi bisogna stare molto lontani. Oh sì, tanta bella carne, guarda, uh, uh, Trudon, oh, via! Tanto via! Va, che bei colori che c'è questo! Bellino, livello 8, chissà se riusciamo a uccidere, ma io direi, per non rischiare, cominciamo con la tartaruga, va! Sono due qua, questo è livello 4, si può fare, questo è livello 16, dai, cominciamo con la più sfigata. Sto perdendo, eh, sai, sono in quel mese, sai com'è? Ma questa non muore, però, eh, lanciamo, proviamo a lanciare, ti becco in faccia? Sì, ma facciamo pochissimo danno. No, 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 ma questa non muore. Colpettino così l'ho già spezzata, ridammi la lancia, please! No, non me la dà, via, 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 via! Cacca, cacca mia! Allora, vediamo se riesco a crearne una, un paio così al volo. Sto morendo in malo modo per una cavolo di tartaruga, uh! Mangiamo un attimo, ma già che ci siamo. Forza, forza, così, sì, l'ho beccato, sì, sì, vai! Adesso, toste, eh, molto toste, ma noi lo siamo di più, questa non scappa. L'altra scappa, c'è l'amica che ti ha lasciato, proprio... Ok, vai, facciamoci questa per bene. Guarda che infame quella lì, proprio ti ha tradito, nel momento del bisogno, ha girato le spalle e se n'è andata. Andiamo a sistemarla, va, ti vendichiamo noi, noi ti abbiamo ucciso, ma ti vendichiamo anche, perché in fondo, in fondo siamo buoni, dai. Guarda lì, livello 16 oltretutto. Non ti tamiamo, perché se poi fai la stessa cosa con noi... Eh, ci lasci poi nella cacca, non va bene, eh. Oh! Aiuto, aiuto! Ha avuto un attimo di coraggio, attenzione! Ha cambiato idea, è bipolare questa, è bipolare, attenzione. 48, forza! Ok, buono. Tutto tranqui, sì. Bene, ci siamo fatti anche un po' di chitina, eh. Non tantissima, però... Sì, dai, abbastanza. Cari figlioli, salve e ben ritrovati! Siamo al secondo giorno, abbiamo qualche punticino in più, abbiamo già tante belle cosucce che ci possiamo craftare, guardate, possiamo già farci le cose in metallo, eccole qua. Adesso direi che come prima cosa dobbiamo migrare al nord. Ho ucciso un trike che sono rimasto con un pelo di vita, cioè proprio un livello 12 che veramente mi ha steso quasi. Lì c'è qualcosa di morto? No, ok. Questi anche ce li possiamo uccidere agevolmente. Abbiamo la sella per il raptor, quindi tecnicamente ce lo possiamo addomesticare se ne troviamo uno. E lo possiamo anche cavalcare, famose le bola. Guarda, guarda il bastardello, come l'odio! Muori, muori! Oddio, siamo molto carichi, abbiamo davvero tantissimo bel materiale, buono così. Ah, lui è un problema, lui è un problema, so già che mi farà male, eh. Questo qua tanca tantissimo. Mannaccia, vediamo di passare... Non è che sia tanto aggressivo, ma se li passi vicino incomincia a lanciarti la cacca. Non è piacevole. Via, via, via. Via, via, via. Allora, guardalo lì. Guardalo lì l'infame. Due, tutti e due lì, c'è anche l'altro che è bustato, quindi evidentemente è il più forte. Facciamo così, visto che tanto di risorse ne abbiamo tante, costruiamo una trappola fisica. O perlomeno un qualcosa dove potermi nascondere. Famo così da tre, ok. Famo uno, due, tre, quattro, cinque, sei. E poi facciamo... Gli ingressi non li ho ricercati? No, andiamo a ricercarci gli ingressi. In legno che perlomeno durano un pochetto di più, vai, sì. Poi facciamo anche il soffitto, tutto il resto. Recinzione in legno, questa ci aiuta. Rampa di legno, nice. Facciamoci vestiti, vai, già che ci siamo, ci danno un minimo di protezione. Siamo già a... Eh, ci serve anche un po' di peso, però facciamo un 230, così, molto bene. Vestiti, vai, uno, due e tre. Molto bene. Così perlomeno siamo anche un pochettino protetti. Allora, questo qui, questo qui, poi terzo lo mettiamo qui. Purtroppo non possiamo raccogliere le cose perché non ho installato la mod S+, però direi che con un farming per sé, raccolta per sé, è più che agevole la situazione. Visto che sono abituato a giocare solitamente con un per due. Allora, facciamoci l'ingresso. Poi ci facciamo anche questo e una rampa. Magari solleviamo un po' di più. Ho paura che salti, sto infame. Facciamo così, dai. Abondiamo. Magari ce li addomestichiamo tutti e due e ci troviamo due raptor amici. Non sarebbe affatto male. Uh, abbiamo le cose in pietra già. Molto bene. La balestra, tanta roba. Ce abbiamo pure questo. Ce abbiamo lo spygrass. Benissimo. Allora, mi serve però ancora un muro. Non posso. Ho finito che cosa? Ho finito la legna. Che sfiga. Ah, ce l'abbiamo giustamente qua. Ok, tecnicamente fammo così. Noi scappiamo. Lui dovrebbe rimanere incastrato dentro. Se non ricordo male, il raptor non passa. Vediamo un pochettino. Mettiamoci le bole nel caso ci dovessero attaccare due contemporaneamente. Uno lo blocchiamo e l'altro, sperando nella buona sorte, dovremmo riuscire a gestirlo. Vediamo. Vediamo. Ma ha già visto. La miseria. Corri Dave. Corri tantissimo. Basta che non ci prenda. Sì. Sì. Nice. No! Non è giusto! Ma da quando in qua passano attraverso le porti, raptor? Non è vero. Fammi scappare. Fammi scappare. No, c'è pure la medusa qui. Oh my god, non è possibile. Vabbè che sono un po' arrugginito, però. Attenzione che arriva la medusa da dietro. Saliamo su questa pietra? Magari ci salviamo? Dai, buono. Non dovrebbe riuscire a salire qua. Guarda se la prende con le mie... Oh, ce ne sono due. E qua è male? Mettiamoci magari anche l'arco. Vai, veloce Dave. Prima che mi scappi. Che inculata! Che inculata! Devo mettere la porta allora, va a sapere. Madonna, guardate quanto resistono. Mai più riuscirei a farli fuori normalmente. Ok, uno è andato. L'altro mi sarebbe piaciuto addomesticarmelo, però... Aspettate. E se ci metto la porta? Facciamo una cosa rischiosa che non dovrei fare. Ci costruiamo una porta e cerchiamo di sbattergliela così, veloce. Mettiamo magari anche le scarpette. Ok, sì, mangiamo un attimo. Toh, mangia, stai zitto. Non è il momento di mangiare, santa miseria. Vai, pronti? Rischiamo? Dai, che lo intrappoliamo. Ok, non dovrei... Speriamo che non salti adesso, no? Porcaccia. Allora, teniamoci un attimo distanti. Purtroppo la carne... Eh, la carne... Eh... Devo andare giù di fiondate, va. Andiamo giù di fiondate, va. Non riusciamo ancora a farci le frecce narcotiche. Per sicurezza, tappiamo così, ok. Adesso diamo un pochettino a se riesco andare qui senza farmi trucidare. Non salterà quassù, vero? È un 72. Mamma mia... Eh, la guarda come mi guarda già incazzato. Ah! No! Salta! Aiuto! No, no. Almeno non è saltato. Aspettate. Eh, mi serve una finestra. Cioè, c'è poco da fare, Dave. Una finestra, finestra, finestra. Ah, guardate come si inca... Ho visto come era incazzato lì che mi fissava. Porcaccia la miseria. Facciamocela in pietra, va. Mi sento un attimino più sicuro. Sapete com'è? Posso in pietra? Vai. Allora, mettiamola qui. Però mi serve anche altra pietra, quindi raccogliamoci un attimo di pietra. Allora, vediamo un pochettino. Non ricordo se bisogna colpirli esclusivamente sulla testa o in parte viene inflitto il torpore anche sul corpo. Perché... Ah, ok. Pensavo che stesse colpendo me. No, mi distrugge la porta! Lascia stare la porta! Guardalo! Ah! E che se riesce a scappare diventa problematico. 84. Ah! Mamma che paura! Sta scappando? No, non scappa questo. Questo è tosto. T'ho beccato in faccia, no? Dai, dai, che la faccia la becco. Sì, 84. Buono. Sta morendo? Non mi morire. Diventa amico nostro. Come direbbe mia figlia? No, questo va male. sta sanguinando già troppo. Eh, vabbè, dai. Scappa, attenzione. Ci vorrebbe la clava adesso. Vediamo un po' se c'è la clava portata di mano. No, creazione, vai. Che forse fa meno male, non ricordo. Vediamo un pochettino. Vai. Vieni che ti do. Bravo. Si è messo anche nel posto giusto. E dai. È morto? Eh, vabbè, che sfiga. Peccato tantissimo. Vediamo cos'è che ci lascia. Eh, vabbè, due schifezze. Questo ci ha lasciato un po' di robette in più. Due schifezze, va bene, dai. Allora, lasciamo aperto qualora ci dovesse nuovamente servire. Livello 48 è nostra. Bravissima. Ok, statene qua, buona, buonina. Vi faccio solo 24. Perché? Eppure la sto beccando in faccia. Aiuto, che è sprofonda. Ok, vediamo un pochettino quanto ci sta per mangiare. To, beccati queste che sono buone. È un per sé il timing, quindi dovrebbe essere abbastanza veloce. Oh, è già nostra. Brava, vi è qua che ti carico per bene. Allora, li sbattiamo sopra. Pietra, almeno la metà così. To, tutte queste bacche. Tutti questi, benissimo. Ok, siamo nelle zone già fredde. Guardate quanto abbiamo freddo, nonostante tutto sommato un vestito ce l'abbiamo. Vediamo un pochettino se abbiamo già sbloccato la pelliccia. Vediamo, vediamo, vediamo. Sì. Almeno un... Ah, non c'ho più punti. Almeno una, però mi serve tanta pelliccia. Metallo addirittura. Qua è tosta, figlioli. È molto tosta. Allora, io direi, facciamoci subito una capannuccia. Quindi, legno a manetta. Sperando che non arrivino creature bastarde. Ricordo quando giocavamo nella serie dove non si poteva cavalcare che in questo ghiacciaio qui mi ero praticamente glicciato dentro. Non riuscivo più a spostarmi. E mi sono dovuto suicidare. Quindi devo fare bene attenzione a non che non accada anche questa volta. Allora, vediamo. C'è un trike. Ok, buono. Ok, siamo stracarichi, eh. Stiamo già perdendo salute. Il che non è affatto positivo. Spacchiamoci un po' di pietre. Incominciamo già a farci la nostra basetta. Lì vedo una cosa che si muove. Cos'è? Che non vorrei... È un cervo. Ok. Allora, spacchiamo pietre velocemente. Ah! Cosa mi manca? Vediamo un pochettino il legno. L'ho spostato tutto qua. Meglio che ce lo riprendiamo. Va, un pochettino di legno così giusto per... Vai, veloce, veloce, veloce. Aumentiamo un po' la tempra. Che dite? Ne ho già dato un punticino. Adesso magari gli diamo anche un secondo punticino. Vai, di tempra. Ok, allora vediamo un pochettino se riesco a farmare... Cioè, se riesco a costruire un qualcosina... Sì, facciamo almeno quattro di queste. No, non basta. Aspetta, aspettate. Allora, ne abbiamo due. Facciamocene almeno altre due. Ok, poi ci facciamo... Direi facciamoci queste qua, va. Ah, siamo davvero messi male con le risorse. Ok, famose altra pietra, velocemente. Ok, sto messo già maluccio con la salute, eh. Diamo gli altri punti tutti in salute. Poi vediamo un pochettino che cosa possiamo fare. Direi sblocchiamoci i pantaloni che ci servono. Questi qua perlomeno. Poi devo mangiare, magari mi restituisce un po' di salute. E soprattutto ci serve un fuoco, velocemente. Andiamo un attimo qua nella zona calda, veloci 5 minuti per riprendere un po' di salute. Ok, qua stiamo sudando, abbiamo caldo. Ok, qua stiamo sudando.